ciao a tutti ciao a voi ragazzi che siete poi i destinatari primari di questo mio saluto ed anche i vostri genitori un saluto poi insomma me lo concedete anche ai colleghi insegnanti di tutti i vostri plessi dell'istituto comprensivo di pietra ligure istituto che sapete mi è caro e e so che voi mi volete bene per cui ve ne ringrazio ora maneggio questi due cosi e ci cosa avranno di digitale questi nulla sono libri libri cartacei e guardate che il libro cartaceo continuerà probabilmente ad esistere a vita vi dirò ma non esclude le competenze digitali ragazzi io devo saper leggere scrivere fare di conto ed essere non analfabeta funzionale cioè avere le competenze digitali e dove le vado ad apprendere queste competenze a scuola il momento che stiamo vivendo particolare che amiamolo così non vi permette di essere nelle vostre aule fisiche con i vostri insegnanti ma vi permette grazie alla tecnologia di essere comunque con i vostri insegnanti con i vostri compagni voi siete con noi la scuola è già digitale ragazzi perché la nostra vita ad essere digitale tra i tanti strumenti che possiamo utilizzare abbiamo l'ambiente di apprendimento google nel caso lo utilizziate o imparerete gradualmente ad usarlo un sistema che si chiama gitsi con la ilunga la jd joker all'inizio e latina al mezzo gitsi che permette di fare delle lezioni in diretta ve ne potrei ne minare un sacco di altri anzi vi prego e vi invito a mantenere sempre la curiosità curiosità per la scoperta per la scelta concordata con i miei insegnanti delle migliori strategie digitali dateci una mano dateci una mano questo periodo storico un pochino particolare che stiamo vivendo è un periodo che però non ci impone diciamo lozio cioè il riposo ci esorta a documentarci a tenerci attivi a tenere il cervello acceso qualunque sia la disciplina che andiamo a studiare guardate io prima vi ho preso due libri e vi saluto facendoveli vedere sono due letture che sto facendo e quindi vi dimostro che insomma io che vivo di digitale nel senso che insegnando poi ad usare al meglio le nuove tecnologie le studio e le approfondisco ogni giorno però insomma leggo sia il giornale in cartaccio che il libro cartaccio ma guai se io non avessi le competenze digitali e mediali guai se io non avessi imparato nel tempo e io non sapessi trasferirvi l'importanza di confrontare e approfondire ricercate controllate sempre le fonti su internet ragazzi lo ripeto spesso documentatevi se fate una ricerca tramite motore di ricerca google controllate almeno tre o quattro risultati verificando che dicano la stessa cosa guardiamo questi due libri al volo e vi saluto il primo si chiama trovare tutto su internet un libro che spiega in qualche maniera a volte è un pochino più semplice in alcuni passaggi meno non potreste magari pensare di leggerlo di curiosarlo con il docente di tecnologia trovare tutto su internet vi spiega come funziona google guardate che google ha un funzionamento davvero particolare sfoglio un attimo con voi guardate a pagina 12 già trovo scritto navigare in un oceano di informazioni e ho veramente dei dati incredibili 159 miliardi di ricerche su google rapportati su scala mensile questo è un libro piuttosto aggiornato i numeri sono molto variabili e così come andiamo a leggere il libro trovare tutto su internet vi mostro un libro la ragazza che legge le nuvole che invece un libro leggero piacevole un libro di lettura ben scritto che mi ha consigliato un collega un insegnante si chiama il professor panetta che non è dell'istituto comprensivo di pietra dove avete gli ottimi docenti che vi accompagnano però è un amico che mi ha fatto fare questa riflessione quella con cui io vi saluto non perdete l'opportunità ora di usare al meglio gli strumenti digitali fidatevi dei vostri insegnanti collaboriamo tutti famiglie voi alunni e i docenti e non dimentichiamoci però ecco il perché del secondo libro di vivere insomma la nostra vita quotidiana anche in maniera analogica cioè accostando sempre ciò che è digitale a ciò che è analogico e la cosa più analogica che abbiamo sapete qual è anzi due la nostra coscienza e vi dirò anche la nostra fantasia a presto buona lezione digitale a tutti ragazzi ciao